80 anni fa in questa città nasce una società per il trasporto pubblico della gente figlia del progresso madre del movimento nasce da un'esigenza e diventa colonna portante nel tempo ATM 80 anni di lavoro ATM tra difficoltà e successi ATM sempre pronta ai cambiamenti ATM 80 anni tra la gente 1931 proprio in questa città nasce una società per la gestione di un'integrata mobilità di solito le grandi aziende sono dislocate su tanti piani di solito le società sono spalmate dentro i grattacieli ma un'azienda di trasporto lo sai ha un pian terreno più grande che mai e non potrà mai esistere un primo piano grande e forte così ATM 80 anni di lavoro ATM tra difficoltà e successi ATM sempre pronta ai cambiamenti ATM 80 anni tra la gente siamo partiti da quel tram che cicolando se ne va per arrivare fino a qua dove un meneghino corre sotto la città ATM 80 anni di lavoro ATM tra difficoltà e successi ATM sempre pronta ai cambiamenti ATM 80 anni tra la gente e l'acqua e l'acqua e l'acqua 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 e l'acqua ecco l'acqua A-D-M-A A-D-M-A O per tanto per la gente A-D-M-A